Sebbene la stagione estiva sia partita in sordina con piogge e temperatura all'insegna del fresco, quella del 2024 sembra invece essere ora una delle stati più calde negli ultimi 33 anni. Per ben 54 giorni, infatti, lo zero termico è stato toccato alla quota di 4.000 metri e oltre e la colonnina di mercurio pare non voler diminuire nei prossimi giorni. Se l'osservazione delle temperature massime non desta a particolare scalpore, è il livello delle minimi quello che tende a preoccupare perché è in crescita rispetto agli anni precedenti. Questo rientra in un quadro più generale del riscaldamento globale che sta determinando un aumento progressivo delle temperature a livello mondiale e in particolar modo sulle aree montane dove si manifesta con valori quasi doppi rispetto a quello che è registrato a livello globale. Se consideriamo quello che è successo nell'arco dell'ultimo anno, quindi da settembre 2023 fino ad adesso, agosto 2024, abbiamo avuto in pratica 12 mesi con temperature sempre superiori alla media, tranne il mese di maggio del 2024, che è stato un mese relativamente freddo, però con una temperatura media nella norma, diciamo, e il mese di novembre 2023 anch'esso con temperature nella norma, mentre tutti gli altri mesi hanno avuto temperature da 1 a 3,5 gradi più alte dei valori normali. Quindi tutte le previsioni, diciamo, più critiche rispetto al riscaldamento che erano state prospettate dai modelli climatici si stanno verificando e stanno avendo un impatto molto importante sulla montagna. Questo impatto riguarda non solamente gli acciai che stanno scomparendo progressivamente con una velocità molto rapida, ma riguarda l'inalzamento del livello del permafrost, quindi del terreno permanentemente gelato, e questo porta a una maggiore propensione al verificarsi di dissesti anche in alta montagna. Abbiamo un aumento dei crolli, abbiamo tutta una serie di fenomeni che cambiano, stanno cambiando rapidamente, non solamente il paesaggio alpino, ma anche le condizioni di stabilità dei versanti e di conseguenza avranno delle ricadute nei prossimi anni anche sul nostro modo di affrontare e di andare in montagna.